Buonasera a tutti e benvenuti. Intanto rinnovo gli auguri d'inizio anno, anche se li avevo già fatti in un precedente video, ma appunto volevo iniziare in particolare questo 2022 parlando come primo video di attualità del crollo che c'è stato dei Bitcoin in questo periodo, che poi chiaramente ha trascinato tutte le alte criptovalute, le cosiddette altcoins, cioè quelle criptovalute appunto secondarie rispetto al Bitcoin che rappresenta la gran parte della capitalizzazione di tutte le criptovalute, ma appunto poi, come immagino quasi tutti voi saprete, ci sono tutta una serie di alte criptovalute che via via si sono diffuse. Ethereum è sicuramente la seconda più importante, che ha un'infinità di utilizzi anche legati alla blockchain, a tutta una serie di sistemi anche secondari di mondi virtuali, avevamo visto il metaverse, i vari metaverse, i vari mondi creati, più tutto il discorso di smart contracts, contratti virtuali, tutto diciamo, e quindi ecco Ethereum è molto utilizzato anche per quello, più dopo ci sono tutta una serie di altre monete, saranno migliaia, molte non hanno valore, diciamo, sono state create soltanto, così diciamo per, soprattutto ricordo nel 2017 c'era questo boom, creavano queste monete che non avevano in realtà dietro un progetto, era quasi tutto marketing, quasi tutta pubblicità, spendevano tanto per pubblicizzarle, c'era l'amore delle cosette ICO, Initial Coin Offerings, cioè creavano queste monete dal nulla, sfruttando anche un mercato che non era ovviamente regolamentato e poi ecco, creavano così questo progetto, con 3-4 persone che non erano nessuno, facevano il sito internet, mettevano là, uno era presidente, un altro era chief financial officer, cioè diciamo direttore finanziario, un altro era direttore tecnico operativo, poi alla fine erano 3-4 persone, facevano questi bellissimi siti, ognuna di queste criptovalute rivoluzionerà completamente il modo di fare questo, quell'altro, insomma, a volte prendevano anche delle star famose dello sport, dello spettacolo, le pagavano per fare da testimonial di queste criptovalute, quindi così diciamo, ecco, per dare anche fiducia ai progetti, molti appunto pagavano per queste criptovalute e così in fase di emissione, anche perché alcune facevano dei botti clamorosi di valore 100-1000 volte, non lo so, cose del genere e quindi c'era questa moda, chiaramente dopo tanti erano progetti inutili e queste criptovalute magari dopo una breve fiammata sono crollate di valore, ci sono anche state indagini, alcune erano vere e proprie truffe perché magari promettevano delle cose che mai avevano fatto, inventavano, non so, licenze bancarie che non esistevano, cose del genere e altre semplicemente, ecco, sono rimaste nel nulla e cosiddette vengono, diciamo, tutta questa categoria chiamata shit coins, diciamo le monete di cacca, tuttavia va detto che alcune di queste criptomonete sono un po' come i biglietti della lotteria, nel senso che alcune di queste piccole che magari non valgono niente, non valevano niente per anni, poi improvvisamente se si trova in utilizzo diventano di grande valore, quindi magari le criptomonete che non valevano appunto nulla per anni, per esempio Dogecoin è l'esempio forse più famoso, è bastato poi che Elon Musk la pubblicizzasse che il valore è enormemente aumentato, ecco, oppure magari io ho visto recentemente anche tutta una serie appunto di criptomonete legate ai mondi virtuali, per esempio Sandbox, che sono nel giro di qualche mese aumentati in modo stratosferico di valore non so quante migliaia di volte, passando da 0,000 qualcosa a 100 dollari, magari cose del genere, quindi se uno aveva avuto l'intuizione o così la conoscenza precedente di magari anche di buttarci non so, 1.000 dollari, a quest'ora è stra ricco, insomma, come è stato un po' per i primi investitori del Bitcoin. Tutta questa premessa è per dire che comunque appunto il mercato delle criptovalute in gran parte riguarda Bitcoin. Forse voi che seguite questo video, questo canale conoscerete altre criptovalute, conoscerete meglio questo mondo, ma per la stragrande maggioranza delle persone che non lo conoscono dire criptovaluta o Bitcoin è la stessa cosa, cioè per loro esiste solo il Bitcoin, anche i mezzi di informazione hanno sponsorizzato quasi esclusivamente questo. e quindi ecco appunto Bitcoin oggi anche grazie a investimenti istituzionali, avevamo visto a parte Elon Musk, ma anche tutta una serie di istituti finanziari che ci hanno investito, grandi società che li accettano, è diventato abbastanza istituzionalizzato e questo quando poi il prezzo è molto aumentato, ha superato i 60.000 dollari addirittura, si diceva appunto è la garanzia che ormai non sarà più tanto volatile Bitcoin, ma si stabilizzerà a un certo punto, perché appunto vale talmente tanto e diciamo ci hanno investito talmente tanti soggetti che ormai era definito l'oro delle criptovalute, cioè mentre le altre criptovalute così erano più volatili, Bitcoin era un po' una riserva di valore, per molti è questo e quindi si pensava salirà molto, ma comunque di sicuro non può più scendere come magari quando era arrivato a 20.000 e poi era crollato a 4.000, ecco perché comunque c'è una certa stabilità di prezzo. effettivamente però per ora così non è stato, appunto è salito molto di valore e poi adesso è sceso, in questi giorni sta continuando a scendere, adesso l'ultimo prezzo ve lo dico ecco così, 36.846 euro in dollari, ve lo dico subito, è sui 41.864, considerando che insomma era arrivato a un certo punto a novembre 2021, quindi poco tempo fa era 67.000 dollari, 500, quindi una perdita molto consistente anche in percentuale, insomma non un tracollo ma sicuramente un grosso calo. Ecco io in questo video, riprendendo anche i fatti di questi ultimi giorni, vorrei fare un po' un'analisi delle ragioni che possono aver determinato questo calo di prezzo che appunto come dicevo da novembre è stato abbastanza costante ma poi negli ultimissimi giorni, in particolare nell'ultimo mese, comunque nell'ultima settimana è stato ancora più drastico, poi basta che guardate un grafico e considerate il 27 dicembre il prezzo era 50.700 dollari e appunto adesso è 41.000, quindi una perdita di circa il 20% in una sola settimana. E quindi ecco io in questo video vorrei intanto spiegare quali possono essere le possibili cause di questo calo sia negli ultimi mesi sia in questa ultima settimana. Mi sono basato su studi di vari esperti di criptovalute, non è che io mi considero tale, ma insomma ho fatto un po' una rassegna di internet, ho valutato e ho preso sia alcuni spunti di natura tecnica, sia altri spunti di natura più diciamo geopolitica e di attualità e poi altri di natura proprio finanziaria monetaria che ho elaborato io soprattutto. Quindi ecco diciamo vi do le tre possibili opzioni, poi voi ditemi nei commenti se magari ne conoscete altri, vedo che molti di voi hanno canali proprio sulle criptovalute o comunque conoscete questo mondo, lo seguite, vi appassiona e quindi ho pensato magari voi stessi avete non so informazioni diverse oppure teorie diverse, ovviamente è un video aperto come sempre dico. E poi alla fine vorrei fare così, non dico una previsione perché sono impossibili quando ho fatto in passato soprattutto sulle criptovalute e non ho mai indovinato, quindi premetto questo. Però magari così dei possibili scenari, alcune prospettive. Ecco, iniziamo subito. Venendo negli ultimi mesi al calo di Bitcoin, alcuni analisti lo inputano soprattutto al fatto che la Cina ha a un certo punto vietato di fare un'attività per cui era leader nel mondo, che era quello del mining del Bitcoin. Cioè grazie al fatto che in Cina l'energia elettrica costava poco, appunto perché hanno moltissime centrali a carbone, quindi costa pochissimo produrla, oltre a normative ambientali sicuramente molto più elastiche e rilassate rispetto magari al resto del mondo, la Cina era leader nel mondo, tra le altre cose appunto del mining di Bitcoin, che come saprete consuma tantissima energia. Il mining, per chi non lo sa, è sostanzialmente un meccanismo grazie al quale si generano Bitcoin. Appunto tutta la rete Bitcoin è decentralizzata, non c'è un computer centrale e quindi per poter funzionare si deve passare su tutti i computer della rete, dei nodi, che appunto elaborano questa rete criptografica, io adesso la semplifico, grazie alla loro potenza di calcolo, quindi hanno tutta una serie di consumo di energia elettrica e per giustificare il fatto che la rete appunto consumi, quindi uno dice perché dovresti mettere il tuo computer a disposizione, è stato previsto un meccanismo cosetto di mining, cioè quando via via risolvono dei problemi matematici tutti questi computer, a un certo punto liberano un blocco e ottengono una sorta di premio che appunto è la criptomoneta che viene generata e poi questo algoritmo prevede a un certo punto un limite a 21 milioni di Bitcoin e poi lì si fermerà, quindi non può essere aumentata la quantità di Bitcoin. E appunto via via diventa sempre più difficile ottenere nuovi Bitcoin, si dimezza diciamo il cosetto halving, termine che forse avete sentito. Quindi ecco, chiaramente siccome però è sempre più difficile ottenere Bitcoin ma allo stesso tempo diventano sempre più preziosi, sempre più, anche proprio imprese volte che persone investono grandi quantità di denaro nei sistemi appunto di mining, cioè di grossa potenza di calcolo, ormai è impossibile con un computer normale come magari era all'inizio, quindi servono dei grandi apparati hardware con sistemi anche di raffreddamento, per esempio alcuni sono in Islanda infatti perché appunto costa meno raffreddare in quanto è freddo, stanno sottoterra e generano tutto questo sistema di calcolo che genera a loro volta, a sua volta Bitcoin. Questo vale per il Bitcoin e altre criptovalute ovviamente, adesso parlo di Bitcoin in particolare. Quindi la Cina era leader in questo, sfruttando appunto il fatto che costava poco la corrente elettrica. Cosa è successo? Che negli ultimi mesi il presidente Xi Jinping, scusate, diciamo secondo alcuni con il pretesto, con l'ipocrisia della tutela dell'ambiente di cui appunto anche lui improvvisamente si è innamorato, ha deciso che questa attività che così era altamente inquinante, moralmente diciamo quindi ingiustificata, doveva cessare e quindi ha detto in Cina è vietato assolutamente, così dalla sera alla mattina come spesso fanno in Cina su interventi dell'economia, è vietato questo mining, che era un po' il discorso che aveva fatto anche Elon Musk e altre persone dicendo tutta questa rete di enorme potenza di calcolo viene sostanzialmente sprecata così per far funzionare questa cosa di Bitcoin e i consumi sono effettivamente stratosferici. Io ho preso qui per esempio un grafico così da statista, poi metto tutto in descrizione se volete, che rende l'idea appunto di quanto consuma la rete Bitcoin. Considerate che la rete Bitcoin, quindi tutta la potenza di calcolo che assorbe la rete Bitcoin a marzo 2021, era pari al 126% di tutto il consumo della Repubblica cieca, quindi immaginate quanto. Quindi significa che con la rete Bitcoin una volta e un quarto potrebbe diciamo essere alimentata tutta la Repubblica cieca oppure il 75% di tutto il consumo dei Paesi Bassi oppure ecco il 28% di tutto il consumo dell'elettricità di tutta Italia. Quindi immaginate circa un terzo di tutta l'energia elettrica consumata in Italia, che comunque è un paese industriale e molto abitato, è assorbita da questa rete Bitcoin. Quindi diciamo ha un fondo di verità sicuramente vero che ha un consumo spaventoso di energia elettrica, tuttavia appunto trovo personalmente così un po' a volte così ipocrita che magari ecco se ne accorgono improvvisamente, insomma si sa di questo e il consumo elettrico è sempre stato consistente, quindi non è un problema recente. L'impressione che ho io è che sia magari alcuni personaggi famosi, sia alcuni stati quando così da un momento all'altro prima dicono di innamorarsi di criptovalute che è il futuro eccetera, poi improvvisamente dicono no ma sono utilizzate dalla malavita, no ma non servono a nulla, no ma sono lente, sono inefficienti, distruggono risorse ecologiche, secondo me è così in base ad altri interessi o addirittura c'è chi ipotizza che qualcuno possa farlo per appunto aggiotaggio, cioè far salire e scendere il prezzo con brusche variazioni e magari comprare o vendere prima facendo guadagni stratosferici, soprattutto adesso che per esempio su Bitcoin e credo anche su Ethereum, su altre criptovalute ci sono dei prodotti derivati, quindi si possono fare vere e proprie scommesse, speculazioni finanziarie sul prezzo del Bitcoin e di altre criptovalute, quindi se magari ecco qualcuno così è in grado di alterare anche uno Stato, cioè magari basta che uno Stato dice, non lo so, noi riteniamo che Bitcoin o altre criptovalute siano utilizzate dalla malavita, quindi faremo una legislazione che le dieterà o le renderà magari con mille controlli, se è un paese importante il prezzo probabilmente andrà giù, insomma anche abbastanza, viceversa basta che un personaggio famoso, una società importante dice, noi accetteremo pagamenti in criptovaluta che quella criptovaluta chiaramente salirà molto, in queste brusche variazioni se uno ha le informazioni di prima può fare tantissimi soldi come potete immaginare. E qual è lo scopo eventualmente della Cina se non quello dell'ecologia? Alcuni ipotizzano che la ragione sia un'altra, cioè la Cina sta lanciando la sua criptovaluta di Stato che è appunto lo Yuan digitale che non sarà ovviamente una criptovaluta decentralizzata, anonima eccetera, col peer-to-peer come Bitcoin e altre, ma sarà una vera e propria criptovaluta digitale emessa dalla banca centrale cinese, quindi sfrutterà la tecnologia delle criptovalute ma sarà emessa nella quantità che deciderà la banca centrale, con dei wallet appunto che i cittadini o anche persone di altri paesi hanno direttamente con la banca centrale cinese e come avevamo visto in un altro video, poi posso inserirlo in descrizione, solleva enormi problemi di privacy, si può programmare la moneta, quindi possono dire i tuoi soldi scadono tra un tot di tempo, tu sei un cattivo cittadino te li puoi spendere solo in un certo modo, ti posso applicare tassi di interesse negativi e quindi limita molto la libertà, alla fine i benefici non ci sono, infatti anche l'adozione da parte di cinesi in questo periodo di prova non sembra essere stata molto molto gradita e molto apprezzata e quindi a maggior ragione la Cina come altri paesi potrebbero decidere di andare addosso alle criptovalute perché chiaramente sono un'alternativa molto migliore alle criptovalute di stato, un bitcoin non può essere toccato, non può essere riprogrammato, non possono applicarci tasse di interesse negativi, la quantità emessa è limitata dall'algoritmo e quella è, quindi non può essere inflazionato, cosa che ovviamente le monete emesse dagli stati e dalle banche centrali invece sì, il loro scopo è proprio quello, cioè avere il controllo totale della emissione di moneta e quindi c'è chi ipotizza che non solo la Cina ma altri paesi possano cercare di dare addosso alle criptomonete che esistono, magari mettendo paura con regolamentazioni. Abbiamo visto in realtà negli ultimi anni un po' così un tira e molla da questo punto di vista, io ricordo già nel 2017 alcuni stati intervengono in modo duro vietando le criptovalute, vietando di comprarle, vietando di minarle, introducendo tutta una serie di controlli sull'acquisto, dando così per scontato che venissero usati per giriloschi, in parte è stato vero ma non è detto ovviamente, chiaramente i stati vogliono il controllo perché comunque la moneta come potete immaginare è uno strumento di potere immenso per uno stato e quindi l'alternativa di altre monete è pericolosa, è sempre stato così nella storia da sempre, c'era in passato a volte anche la pena di morte se per esempio si usava oro, argento invece della valuta di Stato perché chiaramente se i cittadini non si fidano più della moneta lo Stato perde un mezzo di potere enorme ma la fiducia c'è se la moneta ha un valore, se l'economia ha un valore, non servono le pene anche terribili, anche capitali per convincere, se non si vuole usare una moneta non si usa, è stato così in passato e ancora oggi per esempio in paesi come lo Zimbabwe, il Venezuela, in parte anche l'Argentina dove si usano altre valute, addirittura o l'oro o criptomonete, inoltre le criptomonete, quelle vere diciamo sono anche uno strumento di libertà enorme, io per esempio leggevo è interessante, non solo in paesi anche occidentali e presunti democratici si usano sempre più le criptomonete per questa ragione, per evitare i controlli, per evitare sequestri, per evitare magari azioni contro coloro che sono ritenuti dissidenti, diciamo criminali ma il concetto di criminale dipende poi dallo Stato, su un paese democratico ovviamente ci dovrebbe essere una separazione dei poteri ma tante volte non c'è, in paesi come per esempio la Nigeria, un paese importante con circa 200 milioni di persone, a un certo punto siccome anche lì ci sono molte fazioni, repressioni, una situazione geopolitica difficile, tanti cosiddetti dissidenti utilizzano criptovalute proprio per questa ragione, ecco quindi questo è un ulteriore motivo di diffusione delle criptomonete però ecco quindi in questi ultimi giorni perché è crollato il prezzo? Appunto negli ultimi mesi si dice per via della Cina che chiaramente è un paese molto importante, ha vietato il mining ma allo stesso tempo è interessante il grafico dell'hash rate, cioè diciamo della potenza di calcolo di tutti i computer che tiene in piedi questa rete bitcoin e come facevano notare alcuni esperti ho ripreso il grafico, però è interessante perché sì è vero che a un certo punto è crollata molto, per esempio da giugno era a un certo punto a 173 miliardi, milioni credo di terra, non so che unità di misura è, comunque vabbè diciamo adesso indicativamente o scusate a livello tecnico non vorrei dire una stupirati, comunque a 173 milioni, questo ha il 2 giugno 2021, poi dopo questa notizia diciamo della Cina a un certo punto è crollata, c'è stato proprio un grosso callo perché hanno proprio vietato tutte quelle attività in Cina e è arrivata addirittura a 58 milioni, quindi di circa ha perso due terzi di questa potenza e anche lì si è detto ecco è finito, insomma tutto finito perché chiaramente poi dalla Cina seguiranno altri eccetera, invece così non è stato, che è successo? Che lo spazio lasciato libero dalla Cina è stato preso da altri paesi e quindi da luglio 2021 via via questo hash rate risalito, addirittura ha superato quel livello e adesso siamo a 176 milioni, quindi è risalito, che cosa è successo? Che appunto lo spazio libero occupato dalla Cina è stato occupato da altri paesi dove comunque l'energia elettrica costa poco e ecco che veniamo a cosa è successo in questi giorni. Tra i paesi che appunto si sono inseriti vi sono, vabbè, a parte gli Stati Uniti che comunque occupano una grande fetta di questo spazio del mining della Cina, infatti appunto la Cina appunto a giugno 2021 aveva un consumo diciamo sì sempre di hash rate media ex hash per secondo, vabbè, adesso ecco unità di misura, di 70 e poi via via è scesa praticamente insomma costantemente, insomma fino quasi ad alzerarsi in sostanza. E gli Stati Uniti viceversa avevano 10 e a un certo punto, erano scusate a 28 e a un certo punto sono arrivati a 42, quindi hanno quasi raddoppiato. Discorso analogo, la Russia per esempio, dove era appunto a 10 circa e sono arrivati a 13.6, quindi comunque un aumento del 40% e così tutta una serie di altri paesi, cioè lo spazio lasciato libero dalla Cina è stato occupato da altri. E' interessante perché ci sono tantissimi paesi, ma tra i paesi che sono i maggiori produttori di mining al mondo c'è appunto il Kazakistan che come saprete in questi giorni è sotto di fatto guerra civile. Ci sono state proteste feroci contro la polizia, contro il governo e a quel punto il governo è intervenuto anche in modo molto duro, adesso leggevo su Bloomberg addirittura dicevano di sparare a vista, hanno minacciato di sparare a vista chi protesta, si dice che ciò è stato fomentato da potenze occidentali per dare fastidio alla Russia, la Russia avrebbe mandato l'esercito appunto per aiutare il governo così a sedare le rivolte, queste dopo sono cose geopolitiche che sono difficili da sapere in questi giorni. Fatto sta che comunque appunto è interessante perché il Kazakistan grazie al costo dell'energia molto basso era appunto meta di questa attività di mining, di bitcoin e tra le motivazioni principali di questa protesta ci sarebbe proprio l'aumento del costo dell'energia che appunto per i cittadini sarebbe stato la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso delle proteste e quindi c'è chi ipotizza che la situazione in Kazakistan di questi giorni, il fatto dell'aumento del costo dell'energia in quel paese possa essere la ragione del momentaneo crollo, almeno di questa settimana, del bitcoin appunto perché verrebbe meno un altro grosso paese che faceva mining, ecco questa era un'ipotesi interessante, quindi chi la faceva erano degli esperti di criptovaluta e dicevano comunque come è già successo a giugno, luglio con la Cina è possibile che intervengano altri paesi, certo sono operazioni lunghe perché non è che un accende un computer e fa il mining, servono grossissime apparecchiature molto costose per milioni a volte, proprio stanze, apparati dei veri e propri si chiamano mining farms, cioè delle vere e proprie fattorie del mining, quindi con investimenti molto molto importanti non solo di corrente elettrica ma proprio di materiali, di hardware per metterle in piedi affinché siano veramente redditizie e quindi diciamo ci vuole tempo a metterle su, non è che così appunto si fa come magari si faceva all'inizio uno anche con il computer faceva il mining, quindi ci vorrà tempo però altri paesi potrebbero intervenire esattamente come è successo già con la Cina. Un'altra incognita potrebbe riguardare l'aspetto normativo se come diceva effettivamente Reidalio le criptovalute dovessero avere abbastanza successo e quindi sempre più persone ci si dovessero buttare per investimento anche a livello istituzionale, per paradosso il loro successo potrebbe essere la loro rovina perché a un certo punto i governi potrebbero decidere di metterle fuori legge. È vero che a livello tecnico, questo va detto, non è che si può mettere fuori legge bitcoin, altrimenti penso l'avrebbero già fatto, nel senso che è una rete decentralizzata di computer per cui comunque non si può spegnere, bisognerebbe spegnere tutti i computer della rete, è impossibile. però chiaramente se vari governi importanti a livello mondiale dovessero cominciare a dire vietiamo ogni transazione in bitcoin, quindi per esempio le attività commerciali, vietiamo il mining, vietiamo gli exchange, cioè dove si possono comprare, eccetera, eccetera, a un certo punto chiaramente l'utilizzo complessivo sarà molto ridotto, non verrà eliminata la tecnologia ma comunque la clientela diciamo si ridurrà e quindi di conseguenza si riduce anche il prezzo, insomma rischia di ritornare a essere così un po' un gioco da nerd di appassionati, però non è detto nel senso questo io mi ricordo si diceva anche nel 2017, ormai è finito, infatti da 20.000 era arrivato a circa 4.000 dollari il bitcoin e dopo però è risalito appunto, quindi c'è chi ipotizza che siano variazioni di prezzo anche indotte un po' come un aggiotaggio dai potenti e c'è chi dice no, non ci riescono, riaggiustano il tiro ogni volta, magari provano prima così a istituzionalizzarlo, anche forse per far accettare l'idea delle criptovalute di stato, c'è chi ipotizza anche questo, quindi prima far diffondere queste, la gente si abitua all'idea, comincia a usarle, a un certo punto a livello normativo, visto anche che ormai tutti gli exchange chiedono i documenti, acquistare bitcoin, quasi diventato sinonimo di essere un criminale fino a prova contraria, anche con segnalazione e autorità antiriciclaggio, di vigilanza, eccetera, lo scopo vero potrebbe essere un altro e cioè quello appunto di dire a un certo punto le togliamo di mezzo e vi costringiamo ad utilizzare le nostre criptovalute che non solo sono come la moneta normale che già esiste adesso, quella digitale, carte di credito, eccetera, ma forse peggiori, molto più pericolose perché bene o male se avete voi soldi in banca quelli sono, non possono, anche grazie al contante soprattutto, non è che possono dire che applico meno 10% all'anno dei tassi di interesse perché uno se li ritira i soldi in contanti, oppure possono dire a te magari hai scritto un post facebook offensivo verso il governo per tre mesi puoi comprare solo il cibo con i tuoi soldi, non posso, non c'è un sistema del genere per fortuna, oppure possono dire guarda tu sei una categoria di persone magari perché non hai fatto quello che dico io, non sei un bravo cittadino, per te i soldi scadono dopo un mese, o li spendi o non potrai mai risparmiare e mettere da parte dei soldi, oppure puoi spenderli solo in certe attività e in certi prodotti, magari uno che invece è un bravo cittadino, un funzionario, così magari gli durano tre anni i soldi di scadenza, magari chi è legato al partito al potere, ai potenti, ai soldi che non scadono, tutto questo la moneta cosiddetta programmabile è possibile grazie a questo sistema, si eliminano totalmente il contante, esistono solo questi wallet tra voi e la banca centrale, è uno scenario inquietante ma tecnicamente assolutamente possibile, non a caso il primo paese che l'ha voluto fare è stato la Cina forse, che hanno i crediti sociali e tutto, quindi anche questa potrebbe essere così una minaccia per le criptovalute, però i fiduciosi dicono sì ma esistono da talmente tanti anni e proprio perché questo ragionamento che faccio io lo fanno tutti, non è che le persone sono stupide soprattutto in quel mondo, non accetteranno mai, boigotteranno queste criptomonete di Stato e anzi proprio in un mondo sempre meno libero, sempre più controllato diventa sempre più importante l'utilizzo delle criptovalute e quindi ecco ci sono questi due scenari, io ho voluto darvi un quadro generale, l'ultima opzione come dicevo quella economica finanziaria che potrebbe giustificare ulteriormente il calo del prezzo del bitcoin, la terza opzione che faccio più che altro io, era sempre legata all'aumento dei tassi di interesse in particolare negli Stati Uniti, già in altri video abbiamo parlato di questo meccanismo, non sto a rispiegarlo se no diventa lunghissimo il video, però essenzialmente se aumentano i tassi di interesse perché c'è un'inflazione alta, perché appunto i governi e soprattutto le banche centrali si rendono conto che c'è troppa liquidità, non c'è più motivo di questa politica monetaria eccessivamente libera, espansiva, potrebbero a un certo punto dire aumentiamo i tassi di interesse e a quel punto tutti i titoli di Stato e le obbligazioni tornano ad essere interessanti, cioè da un tasso a zero addirittura negativo magari danno il 2, il 3, il 4, il 5% e questo può determinare sia un calo del prezzo delle obbligazioni già emesse, dei titoli di Stato già emessi, ma anche delle azioni, perché molti comprano oggi azioni perché i rendimenti sui titoli di Stato e le obbligazioni sono a zero, quindi si cerca il rendimento altrove e oltre alle azioni questa politica estremamente generosa a livello monetario è forse stata la ragione dell'aumento del prezzo anche del bitcoin e delle criptovalute, come anche di altri beni rifugio, collezionabili, oggetti d'arte, immobili e quindi come questa aspettativa, che poi ancora non c'è stato negli Stati Uniti, dell'aumento dei tassi, della riduzione della quantità di moneta immessa, addirittura della riduzione del bilancio della banca centrale e quindi dell'assorbimento della moneta esistente, chiaramente rende più interessanti i nuovi titoli di Stato e sempre meno interessanti le azioni o addirittura beni come le criptovalute che non hanno rendimento, sono solo per molte speculazioni e basta, si comprano perché si spera che il prezzo aumenterà domani e quindi anche questo potrebbe essere secondo me una ragione al di là di quelle tecniche e di quelle geopolitiche. Fatemi sapere cosa ne pensate, se anche volete chiarimenti per quello che posso, se avete anche ipotesi alternative. Io come sempre vi ringrazio e vi saluto. Ciao a tutti.